La Procura di Bari ha chiuso l'inchiesta sulla gara per l'appalto del nuovo ospedale San Cataldo di Taranto. Le indagini hanno riguardato il capo di gabinetto della Regione Puglia Claudio Stefanazzi ed Elio Sannicandro, commissario straordinario dell'Asset Puglia, accusati di falso ideologico in concorso. Secondo gli inquirenti sarebbero emerse false attestazioni per la nomina della commissione di gara come riporta Lanza, con l'intento di avvantaggiare una cordata di imprenditori interessati alla giudicazione dell'appalto dei lavori di realizzazione del nuovo nosocomio tarantino. L'attenzione della Procura si sarebbe soffermata sull'incarico a San Nicandro di componente la commissione giudicatrice della gara per l'affidamento dei lavori di realizzazione dell'opera. Secondo il procuratore aggiunto Alessio Coccioli e il PM Michele Ruggero sarebbe stato conferito nonostante l'omessa comunicazione di gravi ragioni di convenienza. Sempre secondo l'accusa San Nicandro sarebbe stato designato senza attività istruttoria alcuna, si legge negli atti, come commissario di gara, nonostante nel ruolo di commissario Asset fosse stato anche il coordinatore del gruppo che avrebbe elaborato le linee guida per il piano strategico di Taranto che includevano anche il monitoraggio di opere quali la realizzazione del nuovo ospedale San Cataldo.